Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono straccetti di pollo, cipolla, olio evo, ketchup, amido di mais, paprika dolce, salsa di soia, aceto di mele, zucchero e semi di sesamo. Diamo il via alla ricetta. Mettere la paprika nell'amido di mais ed amalgamare con un cucchiaino. Infarinare gli straccetti di pollo. Mettere nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità a 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità a 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere gli straccetti di pollo ed azionare il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il ketchup. Lo zucchero. La salsa di soia. e l'aceto di mele e cuocere per 12 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Gli straccetti sono pronti. Impiattare spolverizzando con i semi di sesamo. Pollo in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta. Pollo in agrodolce. Pollo in agrodolce. Pollo in agrodolce. Grazie.